Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video, benvenuti se è la prima volta che passate su questo canale Io sono uomo che sapeva troppo, per gli amici uomo, come c'è scritto qua sotto E infatti sono in live in questo momento, sto registrando live questo contenuto come mi capita di fare ogni tanto Vedete al mio fianco una chat di scalmanati pronta a uccidersi, uccidermi o comunque far valere la loro protesta Perché stiamo per fare la classifica di tutti i film degli X-Men, film targati Fox, tranne l'ultimo Deadpool e Wolverine Che ovviamente è targato Marvel Studios perché nel frattempo la Fox è stata acquisita dopo aver realizzato gli ultimi film L'ultimo fu New Mutants, quindi partiremo dal 1999 con X-Men fino ad arrivare al 2024 con Deadpool e Wolverine Comprendendo quindi i due Deadpool, comprendendo i film dedicati solo a Wolverine, comprendendo appunto New Mutants E poi la trilogia, diciamo più classica, quella ambientata nel presente E la quadrilogia poi ambientata nel passato con il cosiddetto nuovo cast, gli X-Men giovani Come funziona questa classifica? Beh funziona come abbiamo già fatto in passato con altre che vi invito ad andare a cercare sul mio canale Cioè la classifica dell'MCU con tutti i prodotti, comprese le serie Oppure con i film del DCU, chiusasi con Aquaman a Natale dell'anno scorso Vediamo, vediamo, vediamo i prodotti e i film Ci includiamo anche Legion e The Gifted Che in qualche modo sono legate più o meno a quello che era la serie principale Anche se sia le due serie TV, Legion e Gifted, sono non facenti parte della timeline principale Va detto che i vecchi film della Fox avevano più di una timeline Solo che era incasinatissima L'MCU ci ha detto che sono un'unica grande timeline ma chiaramente mente a se stesso Facciamolo, facciamolo, pronti Come si svolgerà la cosa? Appunto, classico dei modi Andremo a vedere i film in ordine di uscita e poi li mettiamo sopra o sotto In base a quello che ci piace di più o ci piace di meno Cominciamo dall'inizio, cominciamo da X-Men E anzi, io adesso farò così Primo film, primo film, X-Men Quindi chiameremo solo X-Men E per adesso ovviamente è monoposto Cioè non è che ci sia molto altro Diretto da Bryan Singer Scritto tra l'altro da David Ather Che per chi ama i videogiochi è il doppiatore tra l'altro Storico di Solid Snake X-Men, l'inizio di tutto L'inizio dell'era Marvel C'era già stato Blade prima di lui Ma chiaramente Blade era un personaggio Che nei fumetti quasi non esisteva all'epoca Aveva fatto furore negli anni 70 Era tornato negli anni 90 È diventato più popolare grazie ai film rispetto ai fumetti praticamente Ma X-Men, prendendo dei personaggi di punta della Marvel È stato davvero per me l'inizio dell'era Marvel al cinema Che poi ha portato a Spider-Man Ai vari Fantastici 4 da David Hulk Ghost Rider E poi insomma all'MCU Che è stato un altro passo avanti ancora Chiaramente per adesso sta lì Sta lì, non c'è nessun altro competitor Se non lo stesso Bryan Singer Che l'anno dopo X-Men era uscito nel 2000 Nel 2003 Tira fuori X-Men 2 Ho detto l'anno dopo ma ovviamente non era vero X-Men 2 che per me è superiore in tutto al primo Il primo X-Men ci raccontava di fatto il mondo dei mutanti Ci introduceva Logan Usava Logan e Rogue come scusa Per raccontarci che cos'era la scuola per giovani dotati Insomma è un modo Intrigante, no? In media stress Per raccontarci appunto il mondo dei mutanti Quindi lo mettiamo sopra È bello compilarla Anche perché è una classifica Non è una tier list Vedo che in chat la chiedete Ma no, è una classifica Dal più bello al più brutto Con somma e sottrazione Quindi X-Men 2 va prima del primo film È più complesso I personaggi sono ancora più sfaccettati Come diceva Bryan Singer Non avevano più La costrizione di raccontare le origini Singer spiegava anche nei contenuti speciali Mi ricordo, no? Dei DVD Che era contento di poter girare il 2 Perché disse Cavolo adesso non devo più raccontare Cosa sono i mutanti Chi sono Presentare i personaggi, no? C'è molta meno storia da dedicare a questo Molta più azione Nel senso non solo dei combattimenti Ma anche di fatti che succedono Tra l'altro in X-Men 2 C'è uno dei momenti più belli della saga In cui Wolverine resta isolato In qualche modo Alla X-Mansion da solo Perché gli altri X-Men sono in missione Ci sono i bambini da difendere E lì arriva Esce fuori il lato più protettivo di Wolverine Quello che poi lo rende l'eroe che è Tutta quella sequenza Con anche Colosso tra l'altro Che alla fine era rimasto nella villa Insomma è molto 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 figo Insomma X-Men 2 Per me è veramente un capolavoro Anche di regia A quell'intro meravigliosa Con Nightcrawler Che va alla Casa Bianca Tenta di fare un attentato Insomma succede Veramente di tutto in quel film Si comincia a parlare di cura per i mutanti C'è Striker Si parla di Fenice Si fa intuire l'arrivo di Fenice Che poi purtroppo Non verrà Secondo me è tirato fuori Nel modo migliore Nel terzo film Terzo film che Non è stato girato da Bryan Singer Bryan Singer in qualche modo Si era un po' allontanato Alla produzione Dei film X-Men 3 X-Men Conflitto Finale Viene diretto da Brett Ratner Scritto da Simon Kinberg E Zach Penn Quindi Tornano alcuni Anche degli scrittori Produttori Originali Ma Manca la mano Sia nella scrittura Che nella regia Di chi aveva reso Grande i primi due film E quindi ovviamente Adesso come adesso X-Men Conflitto Finale Si becca Il Terzo Posto L'ultimo Si posto L'ho scritto io Finale Quindi X-Men Conflitto Finale Terzo posto Siamo tra l'altro Nel 2006 Quindi ad altri Tre anni Di distanza C'era un po' la maledizione Dei terzi capitoli Anche Spider-Man Il terzo capitolo Nel 2007 Non verrà apprezzato Come i primi due Per quanto in realtà Abbia una Filosofia Un modo di chiudere Le cose Chiaramente Migliore Rispetto a quello Che è Conflitto Finale Però io non sono neanche Uno di quelli Che odia Tantissimo Conflitto Finale Perché Trovo che abbia Delle belle idee Sicuramente Ha anche degli ottimi Momenti Sia recitati Che di pura azione Di puro intrattenimento C'è l'intro Con le sentinelle Con la Nella versione classica Che poi non vedremo mai Nel resto della saga Con L'allenamento Nella stanza Del pericolo C'è Quell'intro Con Con Angelo Che si taglia le ali Per non far vedere Al padre Che gli stanno spuntando Le ali Ha dei momenti Cattivi Tra virgolette E altri Molto più ridicoli Tipo tutta la gestione Di Fenice Purtroppo è abbastanza Così Problematica Problematica Ma intanto Una trilogia L'abbiamo portata a casa Siamo nel 2006 Sono passati sei anni Neanche pochi Perché comunque Il cinema Galoppa E la prima cosa Che succede È X-Men Le origini Wolverine Il primo Della cosiddetta Trilogia di Wolverine Diretto da Gavin Hood Scritto da David Benioff Del duo Benioff e Wise E da Skip Woods E con protagonista Hugh Jackman Che in qualche modo Ci vuole raccontare La storia di Wolverine Dalle origini Quindi da quando Era nel 1800 Questo giovane Rampollo Di una famiglia Ricca Gli sono spuntati Gli sono spuntati Gli artigli Fatti d'osso Poi è stato preso D'arma X Dopo anni e anni Di fuga Gli è stato messo All'adamantio Insomma Tutta la storia Di Wolverine Per farlo trasformare Poi nell'artigliato Canadese È Veramente brutto È Veramente Veramente Brutto Povero ciclope Tra l'altro Scrivete in chat In conflitto finale Assolutamente sì Vedendo alcuni Cinecomic di adesso Quei film erano oro Anche il terzo È molto inferiore Il terzo Gli altri erano molto solidi Molto d'accordo Però sì Invece Wolverine Signori X-Men Origini Wolverine Stato questo titolo Anche un po' folle Perché volevano fare Una serie di film Che si chiamavano X-Men Origini Io mi ricordo Che Volevano fare X-Men Origini Magneto Ma Non è mai stato fatto Il film su Magneto Lo mettiamo all'ultimo posto Signori Perché nonostante Hugh Jackman Sia comunque Sempre Un simpaticone Da seguire Sia Brutale Sia Come dire No Perfettamente In parte E divertendosi Molto Nel fare Wolverine Qualcuno in chat Dice A me comunque piace Perché nonostante I grossi difetti C'è Logan Che fa il boscaiolo Ad esempio Certo Insomma Ci sono quei momenti Alla Wolverine Che va a pestarsi Nei bar Affronta Gambit Poveraccio Che poi non avrà mai Un suo film Perché quello con Channing Tatum Verrà cancellato E insomma Sappiamo che in Deadpool e Wolverine Hanno omaggiato Anche questo fattaccio Però ragazzi La CGI Era veramente tremenda C'è la scena Del bagno Con gli artigli Fatti al computer Che gli escono dalle mani Veramente terrificante La regia è tutta sbagliata Le origini sono tutte impastate Perché sbagliano i posti Mischiano gli accadimenti Velocizzano alcuni momenti Lui libera alcuni dei giovani mutanti Che si sono visti nel resto della saga Ma non ha molto senso C'è quel proiettile Che fa dimenticare la memoria Insomma Ci sono troppe cose che non vanno Arriva un Sebritut Che cerca di far capire Che è il fratello di Wolverine Che mal si lega Poi con quello che abbiamo visto O volevano fare altre Altri Insomma Film Che potevano far incrociare In qualche modo Fare da Da ponte Tra le origini Del primo X-Men Ma l'hanno fatto In altri modi Poi tornando indietro E adesso lo vedremo E questo ragazzi È veramente Veramente Un brutto 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 Quindi È un peccato Ripeto Sì C'ha i suoi due o tre momenti Ragazzi È chiaro Ribadisco C'è dentro Hugh Jackman Riesce comunque a tirarti Sulla pellicola Anche nei momenti Peggiori C'è quel momento In cui no Li mettono l'Adamantio Molto sentito Anche se c'erano già Dei bei flashback Tra l'altro che cozzano Con questi Sia in X-Men Che in X-Men 2 Wolverine ragazzi Lo mettiamo lì In fondo Prima del secondo Wolverine Di proseguire con la trilogia Però Intanto Matthew Vaughn Alla regia Con però Bryan Singer Che torna Come produttore E anche al soggetto Diciamo Del film Scritto A quattro mani Da Ashley Edward Miller Da Zach Stance Da Jane Goldman E dallo stesso Matthew Vaughn Quindi già un film Che rischiava Viste le numerose Riscritture E le tante mani Abbiamo X-Men L'inizio O in originale X-Men First Class Come l'omonima serie A fumetti Che ci raccontava Gli X-Men Dell'inizio Insomma Di quelli che appunto Sono gli X-Men Giovani Ambientandolo però Negli anni 60 Fini anni 60 Crisi di Cuba I missili cubani Che tra l'altro Entreranno anche Nella storia Giovane Magneto James McAvoy Che fa Xavier Michael Fassbender Invece che fa Magneto Insomma L'inizio di tutto E che Non benissimo Si lega Al primo X-Men Diciamo che devi farci Un po' I salti mortali Perché era inteso Anche come un mezzo Reboot Andiamo all'indietro E vediamo poi Cosa potremo raccontare La cosa poi verrà Molto Chiarita Nei film successivi Ecco devo dire che Nonostante all'inizio Questo film Fosse passato un po' In sordina Perché fu Cagato molto poco La gente era entrata Di petto Nel Marvel Cinematic Universe Stava aspettando Avenger Nel 2012 L'avremmo avuto Era già Credo circolato Il primo trailer All'epoca dell'uscita Di First Class Sicuramente Io l'avevo già visto Quando avevo visto il film Diciamo che Dopo X-Men Origini Wolverine E anche Conflitto finale Che era un po' Più debole Rispetto ai primi due La gente pensava Che ok Gli X-Men Sono andati Di là la Marvel Sta facendo oro O sta per farlo Perché comunque I primi film Non erano andati benissimo Ma Iron Man Era già amatissimo Fu un po' Lasciato A se stesso Il film E invece Devo dire che Poi rivedendolo Anche negli anni Io X-Men all'inizio Lo trovo davvero Un ottimo film Uno dei migliori Della saga Degli X-Men E credo che Lo potrei mettere Tranquillamente Al terzo posto Molti forse O anch'io a volte Viene un po' La tentazione Di metterlo Al secondo posto Sotto X-Men 2 Però X-Men 1 Ragazzi Con i Tanti problemi Che può avere Un primo film Di fin anni 90 Perché è uscito nel 2000 Ma è girato Chiaramente Nel 1999 Quindi aveva Tutti i difetti Di quell'epoca Però Regala Troppe cose fighe Troppe cose interessanti Che i film Dopo Non sono riusciti a replicare Anche solo a livello Di musica Di atmosfera Quindi X-Men all'inizio È molto molto bello C'è la scena Del reclutamento Dei mutanti Tra l'altro Con un cameo di Wolverine Che per adesso Si è fatto tutti questi film Hugh Jackman Non c'è in tutti Per adesso Insomma Non arriva Secondo me Comunque a Avere quella magia Che il primo X-Men aveva Mi dispiace Ma è così Ma è un gran Gran bel film Gran gran bel film Che ha portato avanti Una certa riflessione Che poi vedremo Certe riflessioni Sui personaggi Che si scateneranno Con la cosiddetta Quadrilogia Dei film sequel Ma Facciamo un attimo Un passo a latere Di nuovo con Wolverine E arriviamo nel 2013 2013 Esce Wolverine L'Immortale Diretto da James Mangold Colui che porterà Wolverine Poi al Veramente al picco Di meraviglia Scritto da Mark Bombeck E Scott Frank Sia al soggetto Che alla sceneggiatura Doppia mano Diciamo Di scrittura Wolverine L'Immortale Vuole raccontarci Un'avventura Di Wolverine Classica Vuole raccontarci Ancora Parte del passato Con Quella parte Ambientata Ai tempi Della seconda guerra mondiale Con il lancio Dell'atomica Su Hiroshima O era Nagasaki Perdonatemi Non lo ricordo Forse Nagasaki Comunque Bomba nucleare E lui che in qualche modo Si salva Per salvare un amico Quindi un collegamento Passato Presente E soprattutto L'esplorazione Del Giappone Il Giappone È questo posto Questo luogo Che è importantissimo Per la mitologia Di Wolverine E mi piace Come viene esplorato In questo film La prima parte La trovo molto più interessante La seconda diventa Un po' più Caotica Un po' più Anche la messa in scena Non l'ho trovata Sempre a fuoco E il film Sicuramente Nell'economia Diciamo Della saga Degli X-Men È quello Forse meno importante Diciamo Di tutti I film Compresi Deadpool Compresi Quelli Delle origini Perché di fatto È un'avventura Di Wolverine Certo È ambientato Dopo X-Men Conflitto finale Quindi c'è un po' Di Logan Che piange La morte di Fenice E c'è quella Post credit Che ci mostra Che il professor Xavier Come già ci faceva intuire La post credit Di conflitto finale È sopravvissuto Non ci verrà mai spiegato bene E come Perché nel film successivo Che non vorrà perdere tempo Ma intanto C'è Ripeto Un film gradevole Con secondo me Un po' di difetti Un po' di difetti Ci sono È un po' di facilonerie Però Ha delle buone Scere d'azione Intrattiene È anche questo Uno di quei film Secondo me Un po' sottovalutati Perché eravamo nel 2013 Perché era già uscito Avengers Stavolta sì Si aspettava Iron Man 3 Anzi sono usciti Lo stesso anno Iron Man 3 Fece un miliardo E passa C'era la Tony Stark Mania Insomma Era già MCU totale Quindi purtroppo Anche lì Si è deciso Di svoltarsi Un po' Dall'altra parte E dove lo mettiamo Lo mettiamo Sopra Conflitto finale Secondo me X-Men Wolverine L'Immortale Nel complesso Anche se poi Magari Diciamo Preferisco Rivedere Conflitto finale A titolo personale Diciamo perché È un film di gruppo C'è il mio adorato Ciclope C'è Jean Grey Ci sono insomma Un po' Tutte le cose Che sono caratteristiche Della saga Devo dire che Questo film Lo metterei Abbastanza Abbastanza alto Abbastanza alto Vediamo Vediamo Ci opponiamo In chat C'è qualcuno Che si oppone Assolutamente Fradici ci sta Vedete Vedete che c'è Un po' Di lotta C'è un po' Di lotta Io mi oppongo Dice invece Fede 34 Insomma c'è un po' Di lotta Interna Però Wolverine L'Immortale Per me La mano di Mangold Anche a livello Di registico È meglio Di quello che ci ha Dato conflitto finale Io voglio molto bene A conflitto finale Li metterei Quasi Quasi allo stesso posto Potete considerarli Quasi pari merito Però voglio dargli Un po' Di più Perché come qualcuno Dice in chat C'è anche già Un po' Di Logan Mettono un po' I primi semini Di quello che sarà Il film Logan 2013 Arriviamo al 2014 Di Avenger Insomma Stanno per Affrontare Ultron Siamo appunto Oramai in piena Fase 2 Guardiani della Galassia Insomma la Marvel Ci regala I suoi primi Grandi film Come Winter Soldier Guardiani della Galassia È il lato comico Winter Soldier È il lato serio L'anno dopo Sarebbe arrivato Appunto Il secondo Avenger Forse Proprio perché Un Avengers Mancava Forse perché Guardiani della Galassia Erano quei personaggi Strani Nuovi Che non molti Conoscevano Ricordo che Per giorni di un futuro passato L'attesa era grande Un po' Perché la saga Su cui si basava il film Era molto popolare Quella degli X-Men Molto bella Una delle saghe più belle Degli X-Men E perché si vociferava Che avremmo visto Interagire La nuova generazione Di X-Men Vista in X-Men All'inizio E la vecchia Generazione Di X-Men Pronti Diciamo appunto Per interagire In qualche modo Con i viaggi Temporali L'interesse c'era L'interesse c'era Nel frattempo Saluto Un po' Di persone qui L'interesse c'era E devo dire Che quando Arrivai Al Cinema In sala Per Pronto Diciamo Forse a essere Deluso Perché si C'era stato X-Men L'inizio Che era stato Un po' Ignorato La trilogia di Wolverine Stava andando avanti Non benissimo Wolverine l'Immortale Era bello Ma non Quello che poi Sarebbe stato Logan E invece Ragazzi Hanno tirato fuori Un film Che tra l'altro Per dove erano arrivati In quel momento Aveva fatto Quadrare Veramente Alla grande Tutti i problemi Temporali Che potevano Eserci tra Una e l'altra Creando Tra l'altro Dal mio punto di vista Effettivamente Due linee temporali Diverse Due linee temporali Chiare C'era quella Classica Che sarebbe Finita Con il futuro Che vediamo In X-Men Appunto Giorni di un futuro Passato E quella nuova Che può andare In una direzione Qualsiasi Usare anche Già trame Usare personaggi Ma intanto La vecchia L'abbiamo salutata Io non l'ho mai vista Come un'unica linea temporale Ma sempre come due Giorni di un futuro Passato Ne crea due Quella con X-Men 1 2 Conflitto finale Che non viene cancellato Molti pensano Che venga cancellato Per me No Dopo conflitto finale Arriva Wolverine l'Immortale E poi Le cose che abbiamo visto In Giorni di futuro Passato Ambientate Nel futuro E si crea Una seconda linea Tutte partono Da X-Men L'inizio Ma se ne crea Un'altra Con i giovani X-Men Che nel frattempo Potranno fare Tutto quello che vogliono Due linee temporali Che andranno avanti Parallele E In quella Degli X-Men Giovani Si svolgeranno Poi due Deadpool Così disse Fox All'epoca Tra l'altro È giusto? Non è giusto? Sentite Possiamo anche evitare Di discutere Lo dico proprio Seriamente Perché tanto Una risposta vera Non c'è Perché la saga Era stata scritta Veramente a caso All'epoca Ma dove lo mettiamo Questo Giorni di un futuro Passato Lo mettiamo sopra X-Men L'inizio Signori Anche se secondo me X-Men L'inizio È un film Più completo Più godibile Anche a se stante E veramente Un piccolo gioiellino Giorni di un futuro Passato È veramente Veramente Bello Più del primo X-Men Io vi dico No Perché La grandiosità Di Wolverine Di X-Men E di tutto Quello che è successo Deriva dai primi film Cioè Non può essere bello Se togli Tutto quello che Deriva dai primi due X-Men Quindi mi dispiace Io non ce la faccio X-Men Giorni di un futuro Passato È bellissimo Ma non posso Cercare di non essere Obiettivo E dire che I primi due X-Men Sono meglio Forse Forse Potrei metterlo Secondo Forse Potrei metterlo Secondo Facciamo così Lo mettiamo Secondo Perché a pari merito Quasi col primo Che chiaramente È un po' più Invecchiato Rispetto a giorni Di un futuro Passato Ma Veramente Tutta la grandiosità Wolverine che viaggia nel tempo La scena finale Tutte quelle robe Non esistono Senza i primi due Ed è vero Che più andiamo avanti Facendo questo ragionamento Allora niente Potrebbe superare I primi film Però c'è tanto Lato emotivo Che è debitore Dei primi film Che invece Se la cavano anche Grandiosamente Da soli È comunque una gara Fra gran bei film Diciamo che X-Men X-Men 2 Giorni di un futuro Passato Per me sono veramente Una trilogia Super chicca E tra l'altro Se ci buttiamo dentro X-Men all'inizio Meglio ancora Meglio meglio ancora E siamo nel 2014 Attenzione Arriva il 2016 Arriva il 2016 E succede un po' di tutto Succede un po' di tutto Nel senso che Marvel nel frattempo Continua a macinare soldi Fox si trova sempre Un po' di più nei guai Si trova sempre Un po' di più nei guai Decide di fare due cose Di proseguire Dopo giorni di un futuro passato Che comunque era andato benissimo Veramente Veramente bene E di dare Il semaforo verde A Deadpool Perché quell'anno Sono usciti due film Il primo Deadpool Che per tanto tempo Era rimasto in preparazione Quando Ryan Reynolds Tra l'altro voleva cercare Di redimere il suo personaggio Non l'abbiamo detto Trattato malissimo In X-Men Origini Wolverine Ma veramente Veramente male E dall'altra parte C'è l'idea Di poter proseguire Ora che abbiamo salutato Gli X-Men anziani Di proseguire Con gli X-Men giovani Facendo un po' Tutto quello che vogliamo E quindi tiriamo fuori Apocalypse Apocalisse Con X-Men appunto Apocalisse Partiamo con Deadpool Che uscì prima Febbraio 2016 Diretto da Tim Miller Tra l'altro per me È il miglior Deadpool A livello di regia Diretto da Tim Miller Scritto da Red Riese Paul Wernick E Con Ryan Reynolds Ovviamente Alla produzione Che non scriveva il film Ma tentava Un po' Di infilarsi Qua e là In quanto In quanto lui Deadpool E questa cosa Poi lo Farà diventare Sempre più partecipe Nella realizzazione Del film Deadpool per me È un piccolo gioiello Di regia Di scrittura Di semplicità Un personaggio Che rompe la quarta parete Ma non esagera Che mi ha fatto Amare il personaggio Che nei comics Stava diventando Per me Ingombrante E detestabile Addirittura Quindi lo mettiamo Abbastanza in alto Non in altissimo Chiaramente È un film Che Con la rottura Della quarta parete Con le battute Può permettersi Magari Qualche scivolone Che In altri ambiti Magari potresti Far pesare Molto di più Però devo dire Che è un film Ripeto Godibile a se stante Con delle belle gag Delle belle scene d'azione Una CGI Non sempre convincente Ma Ottima Per quello che deve fare Alla fine Per quello che deve Deve fare E il primo Deadpool Lo mettiamo Sotto X-Men L'inizio Il primo Deadpool Lo mettiamo Lì Sotto X-Men L'inizio Perché Per me è meglio Di Wolverine L'Immortale E di Conflitto finale Ovviamente Di X-Men Origini Wolverine Che è l'ultimo posto Ma ci dovrebbero essere Dei posti vuoti In più Lui è molto più giù Anche rispetto Al povero Conflitto finale Quindi lo mettiamo lì A metà classifica Più o meno Deadpool arriva Diverte Fa quello che deve fare Secondo me È il suo posto Perfetto Vedo che Me l'accollo Perfetto Terzo Terzo Addirittura Dice Fede No 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 Gli altri Mettono in gioco Delle poste Secondo me Molto più importanti Anche a livello film Con la regia di Singer Però Sta lì a metà A metà Lo stesso anno Signori esce X-Men Apocalisse X-Men Apocalisse Torna Brian Singer In realtà Brian Singer Era tornato Non l'avevo detto Per X-Men Giori di un futuro passato Prosegue Ritorna alla regia Di Brian Singer Con X-Men Apocalisse Scritto anche questo Da Simon King Kingberg E con un Brian Singer Però che aveva Dei problemi giuridici All'epoca Dele accuse Anche abbastanza Pesanti Quindi ricordo Che durante la produzione Del film Andava avanti E indietro Tra tribunale Set Quindi non poteva Neanche seguire benissimo Sempre le riprese Non lo so Se è per colpa Di questi Casini Del fatto Che non era Molto Concentrato A Fare Quello che stava Facendo Ma Il film Per me Non regge Assolutamente Con Giorni di un futuro passato Io quando andai in sala Ci rimasi Veramente male Per alcune scelte Super bizzarre Per Il modo In cui viene trattato Il personaggio di Apocalisse I nuovi personaggi Che tra l'altro Non Non erano All'altezza Di quelli che avevo Visto in passato Una recitazione Anche un po' più Svogliata Non lo so Apocalisse aveva Tanti problemi Anche proprio A livello di computer Grafic Quello stesso anno Usciva Civil War Un film che Nell'MCU Per me Qualche problema Ce l'ha di scrittura Ma che chiaramente A livello di Quello che regalava Al pubblico Era Enorme E si lo so Forse non bisogna Sempre fare dei confronti Con l'MCU Ma Erano supereroi Era la Marvel Era la Marvel Era il cinema Era normale andare in sala A avere certe aspettative Apocalisse ragazzi Per me È un film Anche abbastanza bruttarello C'è quella parte Ancora carina Con Il Velocista Con Con Quicksilver Ma Era una ripetizione Di quello che avevamo già visto In giorni di un futuro passato Per me anche Stanca Stanca E io vi dico Che lo metto Sotto X-Men Conflitto Finale Quindi X-Men Apocalisse Apocalipse Peccato Anche perché Apocalipse Apocalisse Era uno dei nemici Più interessanti Da poter sfruttare Gigantesco Enorme Come caratura E no No Non ci siamo Una tempesta Tra l'altro Giovane Che potrebbe essere interessante Sprecatissima Una jubilee Super sprecata Gli anni 80 Che si percepiscono A malapena È la mia epoca Tra l'altro Preferita Quindi potevano anche Conquistarmi Male 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 Conflitto Finale Per me Aveva più cose Da dire Rispetto a questo Anche solo Per gli attori Coinvolti E per scene Come quella L'ho detto Delle ali All'inizio Di Angelo Brutale Cattiva Era un film Più cattivo Cattivo Oscar Isaac Ragazzi Per me No I cavalieri Dell'apocalisse Anonimi Male Male E tra l'altro Anche la scena Di Quicksilver Copiata Da quella Di Giorno Di Futuro Passato Tirata Per le lunghe No Male Male Apocalisse Mi dispiace Se ne va Là sotto Dopo che Deadpool Aveva fatto dire Ah cavolo Guarda Deadpool Che divertente Che strano Arriviamo al 2017 2017 Ci porta Logan Il film E anche due serie tv Sia Legion Che Gifted Le voglio includere Perché comunque Anche se non facevano parte Di quel Universo narrativo Ma erano qualcosa Di separato L'ho fatto anche Con la Marvel L'ho fatto anche Con la DC Inseriamo le serie Le serie tv Partiamo Prima di parlare Del Big One Da Legion Legion Figlio Di Xavier Problemi mentali È una serie super Interessante Introspettiva Super Cervellotica Anche pesante Per certi versi Per certe cose Che trattava Purtroppo Purtroppo poco legata Secondo me Potevano sfruttare Molto di più Il legame Con i mutanti Ma veramente Veramente Bella Veramente Interessante Tanto che Mi sento di metterla Per via Delle cose Che ha saputo Tirare fuori Anche Sopra il primo Deadpool Quindi Legion La serie Sopra il primo Deadpool Non allo stesso Modo The Gifted The Gifted I premiati I premianti Insomma Quelli che hanno Doni La metto Ma Anche sopra Sotto conflitto Finale La metto qua The Gifted Con Giovanni Giovanni Mutanti Che non sono I New Mutants Questa Completamente Ignorata Perché eravamo Nel 2017 Oramai si stava aspettando Il terzo Avenger Erano veramente Anni in cui La Fox Stava buttando Le ultime cartucce Ma Tira fuori Una delle cartucce Più grosse Logan The Wolverine Signori Il Finale Per la storia Di Hugh Jackman E di Wolverine Perlomeno per quello Che Ci era dato Immaginare E intuire All'epoca Logan The Wolverine Ci racconta Questo futuro Ipotetico Che poi Wolverine e Deadpool Anzi Deadpool e Wolverine Hanno deciso di Rendere veramente Canonico Effettivamente Canonizzando Un intero universo Come un'unica Linea temporale Ripeto Facendo più Un pastrocchio Che altro Abbiamo Signori Un film Con i contro Cones Però qua Io ragazzi Vi faccio un po' Arrabbiare Perché vi vedo Vi vedo Molti Molto Terzo posto Terzo posto Terzo posto Per me è grandioso Per me è un bel film Ma ha Una parte centrale Un po' Problematica Il Wolverine clone Non l'ho mai trovato Così interessante Come nemico E quindi Lo farei scendere Un po' Di più Non tantissimo Però ad esempio X-Men L'inizio Per me è meglio E quindi di conseguenza Anche il primo X-Men Perché il primo X-Men Ragazzi È veramente Cioè ci racconta Tantissimo di Logan Il primo X-Men Ci racconta Tanto di Logan Dalle battaglie Fatte in Alberta In Canada La sotto Il suo dolore Quando escono le unghie I problemi col passato Con l'integrarsi Con gli altri Il fatto di fare male Alle persone a cui vuole bene C'era già tutto Nel primo X-Men Ragazzi Bryan Singer Aveva già Tirato fuori tantissimo Del personaggio Logan è un film Eccelso Ma X-Men X-Men all'inizio Per me sono superiori Non è meglio di X-Men Giorni di un futuro passato E nemmeno di X-Men 2 Che come avrete capito Oramai Resta ancorato Là all'inizio Possiamo anche considerare Queste prime 5 posizioni Veramente come Quasi un grande Enorme primo posto Ecco Non sentitevi violati In qualche modo Se Logan è quinto Perché comunque I 4 Prima di lui Sono veramente Delle bombe a tono Comiche Quindi Non preoccupatevene Mettiamolo così Li amo veramente tutti Ripicciolisco un pochino Perché mancano Gli ultimi titoli Ma io direi Che lo mettiamo quinto Quindi X-Men Anzi Logan The Wolverine Il gran finale Un tempo Ora purtroppo Non più A livello perlomeno Di scrittura universale Ma adesso ne parliamo Logan The Wolverine Quinto posto Dai Secondo me ci sta Vedo che qualcuno di voi In chat L'ha accettato Va bene Run piena di grandi film Dai Se vi guardate Quella roba lì Addirittura Fra dice che il primo Deadpool è meglio No Su questo non sono d'accordo Nonostante trovi Deadpool Un gran Un gran bel film Arriviamo al 2018 Arriviamo al 2018 Appunto Infinity War Quindi diciamolo Oramai Della Fox Non interessava più nulla A nessuno Ma Ryan Reynolds Vuole ingranare La quarta Vuole far dirigere Il film A David Leitch Anche se un po' Si scazzano E quindi E' più quasi Un mestierante Per le cose Che gli diceva Ryan Reynolds Sul set Red Rees Scrive Paul Wernick Scrive anche lui Ma stavolta si aggiunge A Ryan Reynolds Alla scrittura Deadpool 2 Deadpool 2 Che tra l'altro Parte Prendendo un po' In giro Logan E la morte Di Wolverine Deadpool 2 E' molto bello Porta avanti Un discorso Secondo me Molto interessante Fatto dal primo Un po' più cacciarone Un po' più quarta parete Un po' più volgare Un po' più d'azione Un po' più cazzone Tutto quello che volete Tira fuori anche Delle cose interessanti Riguardo sinistro Che magari avrebbero potuto Approfondire in film successivi Ma hanno deciso Ahimè O non hanno potuto Visto che la saga Ha chiuso Di fare E' sotto il primo Per me il primo Deadpool Nella sua Completezza Resta migliore Ma sono abbastanza Vicini Abbastanza simili E Tutto sommato Lo preferisco anche A Wolverine L'Immortale Quindi Deadpool 2 Io lo metto Subito sotto Deadpool 1 Magari qualcuno Di voi lo voleva Più in alto Magari qualcuno Di voi lo voleva Più in basso Però siamo Siamo d'accordo Spero Che Diciamo che Siamo Abbastanza D'accordo Che sono due film Anche abbastanza Che possono andare Anche un po' Di pari passo Cioè li possiamo Anche accomunare E mettere Lì Vicini Si possono un po' Intercambiare Senza andare Troppo in alto Ma senza andare Nemmeno Troppo in basso Secondo me Ripeto Il merito Per me È stato quello Di avermi fatto Amare il personaggio Di Deadpool Che nei fumetti Stavo un po' Arrivando a detestare Scene dopo i titoli Di coda Divertentissime La macchina del tempo Che in qualche modo Porteranno a Deadpool e Wolverine Ma Prima di Deadpool e Wolverine E parallelamente Oramai All'acquisizione di Disney Per quanto riguarda La Fox C'era un progetto Che definire Nefasto Definire Sfortunato E poco Ovvero The New Mutants The New Mutants Diretto da Josh Boone Scritto dallo stesso Boone E da Nate Lee Doveva essere L'inizio Inizialmente Di una trilogia Con i New Mutants Una nuova generazione Di mutanti Quella Che in qualche modo Veniva anche suggerita Da Gifted Anche se Gifted La serie di cui abbiamo Parlato prima È in un altro universo Questa invece Tira fuori Gli esperimenti Forse Della Essex Che già erano stati Un po' Tiserati C'era questo Essex Questo Nathaniel Essex Che poi è a sinistro Che vagava Un po' di qua Un po' di là In Apocalypse Facevano capire Che prendeva Il DNA della gente Nella post credit E poi facevano vedere Che in Deadpool Aveva creato Un suo laboratorio Insomma C'era sto Essex Sti esperimenti Sti mutanti Imprigionati Tutto quello che volete Ma alla fine È rimasto un film Unico Un film unico Che ha una sua conclusione Per carità Che in qualche modo Vuole farci capire Che i mutanti Non smetteranno mai Di nascere Quindi da una sorta Di no Di liberatoria A tutto quello Che potrebbe venire Che poi ovviamente Non abbiamo visto Devo dire che è un film Bistrattato Trattato male Forse anche un po' troppo Però ha le sue problematiche È un filmettino In qualche modo Io Ve lo dico Non riesco A renderla A immaginarlo Più bello Interessante Di conflitto finale Quindi Lo metto Sotto conflitto finale The New Mutants I nuovi mutanti Ovviamente Adoro Anya Taylor-Joy Tra l'altro Nel ruolo Di Magic Della sorella Di Colosso C'erano delle cose Interessanti Purtroppo è un film Veramente maledetto Sia nella Durante la realizzazione Che poi Nella sua fase Di uscita E di marketing C'erano gli attori Che erano dei ragazzi Praticamente Quando l'hanno girato Ed erano quasi Non lo so Degli adulti Quando l'hanno tirato Tirato fuori E lo lasciamo lì Un po' in fondo Alla classifica Ma Per me Comunque più godibile Di Apocalypse E anche di Gifted O di Soprattutto di X-Men Origini Wolverine Perché Apocalypse Mi fece anche molto arrabbiare New Mutants Lo accolsi Così Per come Come doveva venire E qui Arriviamo quindi Al 2024 Quattro anni dopo Non tantissimi In realtà Perché nel 2020 È arrivato questo Quindi Come vedete Dal 2000 Al 2024 La saga È andata abbastanza avanti In maniera Unitaria Per oramai Marvel Aveva Spianata la strada Fox era stata acquistata Da Disney Oramai Niente era rimasto fuori L'eccezione di Spider-Man Che in qualche modo Dovano continuare a Tenere con sé Grazie a Sony E arriva Deadpool e Wolverine Deadpool e Wolverine È un film In realtà MCU C'è la TVA C'è un personaggio Preso da un altro universo E portato in questo Però Ha dei camei Di cattivi Della Fox C'ha parte Dell'universo Fox Con il cameo Torcia umana Ha quel reel finale Che ci fa vedere Un po' Tutto quello che è stato Ed è stato prima Non omaggia Per me alla grande L'universo Fox Mutante Ed è diventato Di fatto Un omaggiare Gli scarti Dell'universo Fox In qualche modo Anche se Blade Io proprio scarto Non lo considererei Nonostante il terzo film Molto problematico Ma mi sento Di includerlo Perché comunque Dà veramente La parola fine Chiude veramente Con un bel timbro Quell'universo Dicendo Alcuni personaggi Di quel mondo Magari torneranno Grazie al multiverso Però possiamo definire L'universo Fox Chiuso Il prossimo Deadpool Magari sarà ambientato Ancora lì Magari quindi Dovremmo inserirlo In questa timeline Ma molto più probabilmente Oramai Comincerà a muoversi Veramente nell'MCU Ma lo voglio includere Lo voglio includere Perché fa Questo grande Saluto Nei titoli di coda Ribadisco E in generale Un timbrino Sul addio Fox Lo mette C'è la Fox distrutta C'è Deadpool Che dice Suka Fox Insomma Un po' di Fox Ancora si percepisce È un film che mi ha divertito Tanto Ma che secondo me Ha gravi problemi Di scrittura E che per me lo mette Sotto quello che è stato Deadpool e Deadpool 2 E forse lo metterei anche sotto Wolverine l'Immortale Anche se le scene Non lo so Non lo so Io lo metterei forse Tra Wolverine l'Immortale E X-Men Conflitto Finale Perché hanno un po' Gli stessi problemi Tutti Tutti quei film lì Wolverine l'Immortale E Conflitto Finale Comunque Cozzano un po' Con le cose raccontate prima Hanno un po' Di problemi Di scrittura Mangold è un po' Più solido Rispetto a Sean Levy Che ovviamente Non l'abbiamo detto È lui Il regista È difficile È difficile Ha comunque Dei momenti Secondo me Ripeto Molto divertenti Io sono uscito Dalla sala Molto più gasato Rispetto a Conflitto Finale Che era un po' Deficitario Io credo 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 Che metterlo Tra Forse Wolverine l'Immortale E X-Men Conflitto Finale Potrebbe essere Interessante Da intrigante Voglio metterlo lì Voglio metterlo lì Non ce l'ha fatto Non ce la faccio A A A non fare Non fare questo Quindi Lo mettiamo Tra Questi due Dai Deadpool E Wolverine Anche Visti un po' I suoi problemi Che ha Però è anche Un film Abbastanza Evento Che ci ha portato Delle cose Ad esempio Come una buona Cassandra Nova Che per me È scritta male Ma È interpretata Molto molto bene Emma Corrin L'ho trovata fantastica Nel ruolo Lo mettiamo in mezzo Un film che non sa bene Se è un balto Che però Non ha tutti i problemi Che secondo me È la roba che è uscita Che sotto ha Conflitto finale Un po' I suoi problemoni Li ha Per me Butta un po' Al macero Una roba molto potente Come poteva essere La saga di Fenice Ragazzi La saga di Fenice E attenzione Bravo Emanuele Punzo Ci siamo dimenticati Di Dark Phoenix Ragazzi Ci siamo dimenticati Di Dark Phoenix Oh mio Dio Per farvi capire Quanto brutto era Probabilmente X-Men Dark Phoenix Grazie per avermelo ricordato Perché Siamo passati al 2020 O nessuno Fino adesso Se ne era ricordato Grazie Emanuele Punzo Mamma mia Grazie ragazzi Però questo Credo faccia abbastanza ridere Perché vuol dire Che il film Veramente Ce lo siamo Dimenticati tutti Perché vedevo che pochi Nessuno l'aveva detto Adesso In chat Vi vedo un po' Tirarlo fuori Ma va bene Va bene Facciamolo Facciamolo E' divertente Divertente Dark Phoenix Dark Phoenix Nel 2019 Chiude La saga Dei giovani X-Men Però Lo fa in maniera Veramente grossolana Veramente in maniera grossolana Io non lo so Potremmo metterlo Sotto X-Men Apocalisse Anche se io vi dico A me è intrattenuto di più Io l'ho odiato meno Di X-Men L'Apocalisse Quindi sapete che c'è Lo metto Quattordicesimo Pensavate che era più in basso X-Men Dark Phoenix Sapete perché? Perché comunque E' un'avventura degli X-Men Quasi Boh Quasi Che non fa male Che non Che non Ignorabile Ma che non mi ha fatto arrabbiare Come Apocalisse Forse Apocalisse L'avevo odiato Così tanto Che questo Mi ha fatto meno male L'ho trovato Leggermente più a fuoco Rispetto comunque a Un film che era brutto E Dark Phoenix E' bruttissimo anche lui Quindi Comunque stiamo parlando di Di film Molto problematici Anzi facciamo Così Perché in realtà C'ha i due punti Vogliamo essere Precisi E lo mettiamo Lo mettiamo Quattordicesimo Lo mettiamo Quattordicesimo Adesso possiamo leggere Allora la classifica Facciamo Me ne avevo dimenticato Ragazzi Purtroppo X-Men Origini Wolverine Sedicesimo X-Men Apocalisse Quindicesimo Quattordicesimo Dark Phoenix Tredicesima La serie The Gifted Dodicesimo Il film The New Mutants Undicesimo X-Men Conflitto Finale Decimo Deadpool e Wolverine Nono Wolverine Immortale All'ottavo posto Deadpool 2 Al settimo Deadpool 1 Sesto Legion Quinto Logan The Wolverine X-Men Inizio Quarto Il primo X-Men Terzo Giorno di un futuro passato Al secondo posto E al primo posto X-Men 2 La grande gloria Di Brian Singer Direi che Ci siamo divertiti Sedici prodotti Ammazza che grande L'Universo Fox Se contiamo anche le serie 14 Se consideriamo solo i film Ovviamente buttandoci dentro I Deadpool E buttandoci dentro Anche Deadpool e Wolverine Che erano un po' più Un po' più staccati Sennò ovviamente Arriviamo a 11 film Non male Non male Ora possiamo salutarlo Veramente Quindi ciao Universo Fox Chissà i mutanti Come verranno trattati Nell'MCU Siamo tutti qua Pronti ad attenderli A braccia aperte E anche pronti A fare il cazziatone A Marvel Se non dovesse farlo Perché comunque In maniera In maniera ottima Perché Con anche tanti scivoloni Possiamo dire Che fino a Almeno a Wolverine L'Immortale O comunque Deadpool 2 Dai Per la maggior parte Per la maggior parte Della classifica Fox aveva tirato fuori Veramente Delle cose Molto Molto fighe Questo conclude La classifica Dei film sui mutanti La mia personale classifica Sono curioso Di vedere Le vostre Quindi Se state vedendo Il video In differita Su Youtube Nei commenti Scatenatevi Facendovi Facendovi Magari un po' Vedere Cosa ne pensate Sia della mia Ma soprattutto Di farmi vedere La vostra Sono curioso Di vedere Come posizionate Questi 16 Prodotti Magari non avete visto Le serie tv Nel caso fatela solo Con 14 prodotti Ma sono comunque curioso Nel caso l'abbiate vista Dove li L'abbiate vista E dove li mettete Quindi Fatemelo sapere Io vi saluto E saluto Anche appunto Tutti quelli che nei commenti Si scateneranno La chat Vi saluta Io vi aspetto A un nuovo Video Qua sul canale E a nuove Live Sul canale Twitch Che trovate Cliccando qua sotto Mi raccomando Scatenatevi nei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate E qual è la vostra Classifica Dei film Sugli X-Men E in generale Dei mutanti Targata Fox Ciao